salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi nuovo video test è un po che non ne facevo oggi ne facciamo uno qua nella mia solita location test con lui il dji avatar sì perché proveremo un accessorio del dji avatar che mi ha incuriosito davvero davvero tanto un accessorio che va installato sul dji avatar al posto di alcune al posto dei componenti originali dji e come avrete intuito dal titolo e dalla copertina sono loro le eliche tre pale della air scrive sì ragazzi avete capito bene tre pale le eliche originali dji hanno cinque pale mentre la air scrive questa azienda americana che produce eliche per i droni dji nella versione avatar ha deciso di fare una versione a tre pale anche se in realtà è disponibile anche una versione quattro pale comunque quella dji rimane una versione invece a cinque pale ma queste a tre pale mi hanno incuriosito davvero davvero tanto perché hanno una forma e un'impronta davvero ampia adesso le guardiamo da vicino io le ho comprate su amazon sono disponibili con consegna un giorno su amazon sia nella versione tre pale che quattro pale anche se il loro prezzo secondo me è un po impegnativo perché comunque le eliche originali dji costano intorno ai 10 euro su amazon mentre queste air scrive sia nella versione tre pale che quattro pale costano 20 euro quindi praticamente il doppio delle eliche originali dji adesso guardiamo da vicino perché sono davvero curioso di farvele vedere soprattutto di provarle non le ho ancora provate appunto perché ci tenevo a fare una prova live con voi per avere le sensazioni subito a caldo di come mi trovo con queste eliche quindi darvi le mie impressioni proprio in diretta senza aver fatto nessun test nessuna prova magari prima decollo con quelle originali così che subito dopo vado ad installare queste così un confronto subito diretto ma adesso volevo farvi vedere da vicino come sono queste eliche della air scrive e le loro caratteristiche dichiarate dalla ai scrive allora le eliche ragazzi sono così sono pazzesche guardate che impronta che hanno sono immense loro dichiarano che con queste eliche si riesce ad avere più accelerazioni infatti parlano da 0 a 60 miglia orarie in tre secondi si riesce ad avere un aumento della velocità massima dell'otto per cento si riesce ad avere una reattività del drone maggiorate del 15 per cento e addirittura dichiarano che la durata della batteria con queste eliche tre pale può durare anche il cinque per cento in più ovviamente sono tutti dati quelli dichiarati dall'azienda poi quanti di questi siano veri quanto siano pompati soprattutto poi quello della batteria è un dato secondo me troppo variabile sui droni fpv dove basta sgasare un po di più e la batteria dura meno cioè è difficile secondo me nei droni fpv fare una comparazione così precisa sulla durata in percettuale in più di batteria comunque nella confezione troviamo le tre eliche e anche le viti per andare a fissare le nostre nuove eliche anche perché con 20 euro volevo vedere che mi davano solo le quattro eliche che non mi davano neanche le viti comunque detto tutto questo adesso è arrivato il momento di testare come ho detto questa versione trepale quella che mi incuriosiva di più magari prossimamente proverò la quattropale però questa trepale era davvero davvero interessante da vedere dal punto di vista estetico dal punto di vista strutturale dal punto di vista ingegneristico sul dj avatar sono disponibili in color rosso o azzurro a me piaceva il rosso comunque sono disponibili su amazon in entrambi i colori comunque vi lascio qua sotto i link di amazon in descrizione nel caso ne vogliate acquistare e testare e provare perché comunque master a scrive fa sempre prodotti di ottimo livello io sul dj fpv ho installato appunto le loro eliche che avevo comprato anche quelle su amazon perché comunque gli davano un qualcosina in più nella stabilità e nella gestione perché comunque dj fpv è un drone abbastanza cattivo che in certe situazioni può non rendere fluidi i video registrati perché comunque un po la stabilizzazione della fotocamera è un po anche la gestione appunto della potenza che ha quel drone mentre con le eliche della scrive avevo notato un miglioramento e quindi dopo averle testate e provate ho sempre continuato a utilizzare eliche della master a riscriva sul dj fpv perché comunque per il dj fpv era cambiata sì l'ergonomia dell'elica dal punto di vista dell'inclinazione della forma ma il concetto era sempre lo stesso tre pale e con diciamo un design comunque non lontano da quello che erano le eliche originale qua invece proprio è tutta un'altra e adesso mi alleno un attimo con le eliche originali innanzitutto smontiamo quelle originali scatoletta per mettere le viti mi sono proprio messo in un bel punto di merda perché qua ci sono le ortiche proprio beccato il punto perfetto per non mettersi e invece io come un pirla mi sono messo proprio lì perfetto abbiamo tolto le otto viti adesso possiamo andare a prendere le eliche della ice cream e andare a sostituire una alla volta le eliche perché vi dico una alla volta perché dj ci segna con il colore le due eliche che vanno in queste posizioni hanno il colore vedete segnato sul motore qua abbiamo il pallino color oro e qua abbiamo ancora il color oro quindi sappiamo che queste eliche vanno messe da questa parte mentre le altre eliche dove abbiamo nero qua abbiamo nero mentre con le master a scrivere i 20 euro ovviamente non potevano andare anche assegnarci il colore perché sarebbe stato veramente assurdo quindi dobbiamo noi andare a vedere di installare e montare appunto la pala giusta sul motore giusto quindi ed è per questo che vi consiglio di andare a sostituirne una alla volta quindi partiamo con la prima adesso guardiamo come sono le sue viti se sono uguali a quelle dj ai o sono diverse da quelle dj ai come lunghezza no sono praticamente identiche vedete quindi possiamo utilizzare sia quelle nere dj ai che quelle argento che sono quelle della master ice cream vado a riutilizzare quelle dj ai raccomando non sbagliate a montare le eliche perché se sbagliate al decollo succede un macello perfetto il risultato ragazzi è questo è fantastico dal punto di vista dell'impatto visivo sono fuori di testa è davvero una sensazione stranissima direi che siamo pronti a fare il test ovviamente sarà un test live come vi ho detto non li ho ancora provate sono nuove di pacca e sarà appunto un test e dopo aver usato una batteria quelle lico originali a caldo le sensazioni di come mi sono trovato qua a fare determinate cose con quelle originali e vediamo come invece mi troverò con queste triple pali della master ice cream quindi non perdiamo altro tempo perché sono davvero troppo troppo curioso decolliamo in normal lo fermiamo qua in overing per fare la comparazione del rumore con le eliche originali che ho registrato prima quindi abbiamo così una comparazione per quanto riguarda il rumore anche se nella scheda tecnica dichiarata da master ice cream sulle eliche dj non viene menzionato nulla riguardante il rumore è solo una mia curiosità di vedere se cambia qualcosa a livello di suono però loro a livello di suono non dichiarano assolutamente nulla e poi ovviamente vogliamo in acro o manual chiamiamolo un po come ci pare allora già il suono da fermo è molto molto diverso il suono è completamente diverso è è un suono più chiuso ma allo stesso tempo con una sorta di acuto non lo so è stranissimo lo registro nel microfono così poi vi faccio la comparazione diretta con quello che ho registrato con le cinque pali originali dj ai perfetto ci siamo quindi dal punto di vista del suono valutate voi ma adesso pronti a volare con tre pale master ice cream ok passiamo in manual o acro chiamiamolo un po come ci pare vediamo un po il comportamento a fare qualche movimento solito che faccio con questo drone quando vengo soprattutto in questa location test ok sì direi che non sono male perché hanno questo movimento secondo me non so come dire il drone si muove secondo me più morbido ma allo stesso tempo ha una sorta di reattività perché guardate se do gas quanto sale adesso sto scendendo impicchiata e torna su e impicchiata forse torna su di più che vediamo sì impicchiata forse ha una reazione un po più reattiva nel dare gas nel riprendersi rispetto alle eliche originali che magari bisogna un attimo spingere di più sull'acceleratore vediamo sì quindi riprendono in maniera più decisa quindi da questo punto di vista interessante perché fare delle specie di dive anche se non sono dei dive perché comunque fare i dive con un cine whoop come questo vabbè non è proprio l'ideale però diciamo che ci permette questo di riprendere meglio il drone provo ancora sì assolutamente con meno gas il drone riprende subito quota con più sicurezza rispetto a quello che succede con le eliche originali proviamo a dare gas e vedere se dal punto di vista dell'accelerazione realmente sia è difficile dire se viene su più o meno veloce rispetto a quelle originali non lo saprei dire io a dire la verità invece dal punto di vista della precisione di volo perché comunque un cine whoop dobbiamo valutare anche la precisione di volo vediamo il suo comportamento prova entrare nel boschetto che il boschetto in questo momento è davvero pericoloso perché sono solo rami quindi non ci sono foglie la visibilità dei rami è sempre un po precaria stiamo un po rasenti a la strada vedere come tiene bene la linea con queste pale sì devo dire che mi piacciono forse a un come non so come spiegarmi quando si dà gas non meglio tanto gas e ruzzano di brutto quando si dà poco gas e si vuole tenere una linea dritta ma con poco gas ecco fa più fatica a prendere velocità non so non forse la mia impressione tipo adesso se io voglio stare basso di quota così con questo gas secondo me con le originali spinge di più però forse è una mia impressione però nel complesso devo dire che tanta roba perché anche quando ci si fa dei movimenti abbastanza decisi devo dire che sì devo dire che niente male proviamo a passare qua dentro soprattutto quando si torna verso il basso si riprende molto più facilmente rispetto alle eliche originali eh sì decisamente belle devo dire belle non pensavo pensavo una roba più talmente strane che non non so non riuscivo a dargli un valore reale a parte un'estetica incredibile e particolarissima invece devo dire belle secondo me vale la pena provarle a parte il prezzo sicuramente molto impegnativo per delle eliche di plastica perché alla fine sono eliche di plastica anche se sembrano di metallo verniciato sono pur sempre di plastica ed il prezzo davvero impegnativo eh per quello che adesso ho provato solo le tre palle perché altrimenti avrei dovuto comprare anche le quattro pali erano altri 20 euro per delle eliche di plastica che eh cioè già DJI le sue le fa pagare tanto e costano 10 euro queste qua 20 euro mi sembra veramente un prezzo incredibile però se volete fare un investimento di 20 euro secondo me potete farlo che comunque hanno il loro perché sa che non mi dispiacciono per niente potrebbero diventare le mie eliche d'uso quotidiano 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 anche no di giorni già avata però quelle che praticamente gli lascerei su costantemente proviamo entrare adesso nel tunnel del bosco che è sempre una parte un po critica in questo periodo di rametti secchi ovviamente se becco un rametto secco non è colpa dell'elica perché l'elica ci può fare poco alla mia bravura nei rametti secchi e devo dire che niente male perché comunque quando correggevo vedete perché magari vedeva un ramettino meno correggevo il movimento della correzione era davvero piacevole cioè senza andare a scombussolare quello che era comunque la traiettoria che avevo impostato al drone era una correzione minima da questo punto di vista secondo me sono davvero interessanti infatti adesso voglio ritornare qua nel boschetto e vedere il suo comportamento perché poi sono diciamo le eliche pericine buppe devono darci anche questa sorta di sicurezza dal punto di vista del volare i spazi ristretti in situazioni molto particolari con stabilità ovviamente e prontezza comunque di riflessire nell'andare a modificare magari una traiettoria piuttosto che ma senza da sconvolgere il volo perché comunque siamo in zone magari critiche dal punto di vista degli spazi belle belle guardate come si muove bene comunque all'interno o qua era chiusa la strada aspettate che adesso provo a passare di qua difficile andare a trovare un passaggio senza troppi rami secchi da che si vedono magari all'ultimo è davvero fastidioso questo o guardate qua non ho belle guardate come sono riuscito a tenere la linea a filo dell'erba alta o dei rami secchi che venivano su adesso proviamo a passare di qua che è difficile perché ci sono i rami che sono comunque disassati uno dall'altro quindi in realtà non si ha la visuale esatta del passaggio perché i tronchi sono molto disallineati quindi si ha sì lo spiraglio di luce ampio ma poi quando si entra ci si trova i tronchi che in realtà non sono allineati uno all'altro e vanno all'improvviso a chiudere quello che era il passaggio che vedevamo di partenza bello sì mi piace perché comunque questa zona è dove vengo io allenarmi per imparare a volare preciso in situazioni ovviamente critiche dal punto di vista degli spazi perché comunque come abbiamo appena detto cinevup vuol dire volare all'interno di spazi veramente veramente ridotti e passiamo da qua perfetto sino guardate come tiene bene la linea no belle 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 livello della batteria scarica ritorniamo atterraggio però lo facciamo in normal così atterriamo senza problemi perché questo poi il bello dei droni dji anche quelli fpv che si atterra e si decolla senza fare troppe perfetto ragazzi perfette devo dire che mi sono piaciute davvero davvero tanto davvero contento e non pensavo ma hanno il loro perché quello che sono le percentuali dichiarate non lo so perché in realtà il 5 per cento in più di batteria non so se c'è stato realmente il 8 per cento in più di velocità massima non lo so anche quello secondo me boh e poi l'accelerazione maggiore si è vero perché quando si viene giù implicate si tocca il gas e torna su subito con quelle originali tende a scendere ancora prima di riprendere il quadro bisogna dare più gas mentre qua devo dire che subito riprende quota quando si scende impicchiata però allo stesso tempo quando si va lineari tenendo una linea vicino a una strada o meno bisogna dare più gas secondo me rispetto a quelle originali non so una sensazione che ho avuto sembra proprio contraddittoria ma è quello che ho provato io così live e la prima prova è quindi in realtà è solo per appunto trasmettervi quello che ho provato io proprio nell'utilizzo a secco così una batteria fatta con le eliche originali subito cambiato le eliche volato e avevo le sensazioni a caldo di quali originali a cinque pali confrontate con queste tre pare della master air scrive quindi ragazzi vi lascio qua sotto il link in descrizione per acquistare se qualcuno di voi le ha già provate o ha intenzione di acquistare le prova mi raccomando scrivetemi la vostra opinione le vostre sensazioni in un volo acro ovviamente perché è lì che si notano ovviamente le maggiori differenze cambiando le eliche quindi vi aspetto i vostri commenti sia se l'avete già provate sia se le proverete in futuro se questo mio video test e l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità ante prime spoiler anche di loro ovviamente erano arrivati e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posso tantissimi copposconto riguardanti i droni ma tutta la tecnologia in generale magari anche di loro se vengono messe in offerta ve le segnalo sul mio canale telegram offerte ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione o un test come questo delle master a iscrive tre pale per dj avatar